e marci sono cattivissimi ma c'hai fatto così cattivo? uccidi! uccidi tutti! TUTTI! UCCIDI TUTTI! MIKO! MARCI? MIKO! MARCI? MIKO! Eh sono io! Oggi andiamo a fare zombie belli contro zombie brutti o zombie brutti, ma sono... mmm... vabbè questo... in realtà non è bene e brutti, ma sono speciali e normali credo non mi ricordo, cos'è che erano? aspetta ti vado a contare nel blocco note erano speciali e normali e mi ero dimenticato DEEE! non so ci facciamo zombie normali che sono speciali infatti qua si vedono zombie normali e uno zombie speciale perché c'è la corona, perché è un king è il king lui parliamo con lui, dai ciao marci, oggi io e il mio amico re zombie ti proponiamo una nuova sfida scegliere e sconfiggere i nuovi tipi di zombie che abbiamo trovato in giro per il mondo cioè i loro zombie hanno trovato altri loro amici e li mettono a combattere con... riuscirai a fare la giusta scelta zombie normale o zombie speciale ecco a te il tuo equipaggio vediamo cosa mi dà mi dà le stesse cose di prima dimmi stop, dimmi stop, dimmi stop dimmi stop, dimmi stop uh light blue bello light blue ma non c'è un colore che non abbiamo con l'utilizzato vediamo aspetta io lo prendo arancione no voglio farlo io ho tutti due arancione dai tutti due arancione ho orange ok 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 orange perfetto e invece lui ci darà sicuramente le munizioni grazie campeon campeon va bene grazie mille benissimo nico dove andiamo? andiamo a sin... adesso scegli tu guarda io mi giro guardo in basso e finchè non hai scelto io non mi giro ho scelto marci ok ma perchè sei antonio romani di zombie adesso? eh perchè mi hai venuto incontro arrivo a sinistra sinistra no a destra guardalo qua con braccia aperte ah perchè stai devi scelto che si sono avvicinati quando... oh belli cosa sono tipo cyborg zombie agenti segreti no il king è colpito chi è ucciso? è colpito il king eh scusa il king no perchè hai gelato tutta rossa? come hai fatto? bella eh bellissimo anche io voglio rossa anche io voglio rossa pet pet attivo red, green, black, blue black black assolutamente no che bella ooooo bellissima bene andiamoci delle sti cosi va vai vai prego vai 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 basta ehi zombie ma cos'è che fanno gli specialisti qua? ma niente non lo so ah ma me l'avevi detto che erano un po' così gli zombie cioè che non è che c'era chissà che cosa da vedere però erano strani e particolari ciao zombie speciale zombie ormai zombie oh l'ucciso morto l'ucciso oggi facciamo così ogni volta io supererò la porta quando tu avrai scelto la parte dove andare perchè oggi scegli tu tutto va bene? ok va bene allora adesso andiamo andiamo io chiudo quando sei pronto ah destra direi destra di nuovo? vai 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 vado corro ma sono velocissimi di conoscere oddio chiudi eh ok ma sono velocissimi ma che cosa sono? ma stai scherzando? mi ho distrutto mi hanno oh ma cosa sono? sono chef un tipo di chef lo zombie chef? si ma 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 danno cibo da no come mi stai facendo morire no mi hai fatto morire? si si tippinico 3005 ok aia no 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 non ho fatto apposta non ho fatto apposta no vabbè tranquillo eiii eiii amici si sono io il vostro amico del qua oh ma io questo cibo mi sono preso anche l'ascia l'acciata in ferro eh no non so come dai no per favore oh oh ok devo andare prima io? va bene stavolta andiamo però a destra di nuovo basta ok ma questi sono normali? se vuoi ok ciao riecco ok che cosa sono normali questi? eh mi sa eh vabbè ma da quando danno veleno gli zombie esattamente? c'è fai capire questa cosa oh riusciamo anche forse non so normali ma tu dici? no non ne sono sicuro ma si chiama nasa zoom ma non manco tempo posso parlare tipo nintimenti che sempre ti metto lo spawn point via eh ma ci sono cattivissimi ma ci hai fatto così cattivo? uccidi uccidi tutti tutti uccidi tutti quanto manca? se passi in mezzo eh ma ma come è possibile se io sia morto? ahia no colpire me no ma io si bravissimo è morto è bravissimo bravo nico vai corri corri intanto ma sinistra subito a sinistra? così vai vai entro uuuu ma sono creeper sono creeper perché c'ho dei creeper nico? abbiamo sbagliato sono dei creeper zombie oddio attento ma creeper zoom ehi ciao ciao ma ho fatto sono stato bravo? sei fortissimo grazie mille sono stato bravo? sei fortissimo grazie mille bene adesso devi decidere dove andare aspetta devo aprire qua apro qua devo fare un attimino metto pure a posto guarda il terreno perché mi da molto fastidio vederlo così ok è bravissimo io ho finito di mettere via i blocchi dove sei? qua devo andare giusto qua dove vado? dove vado? per me ehm scusa dove andiamo? destra sinistra sinistra beh insomma fanno un po di danno però sono lenti sono lentissimi aiuto questi qua mi chiudono però eh vabè yo ti guardo mi si chiudono io non lo so oh piedini dai ai 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 c'è mezzo cuore per colpa tua e ovviamente per colpa mia Vki deverà essere la colpa e no no ovviamente bravo markczy uccidi tutti da solo un mostro un fenomeno margino un fenomeno uuuuuh fatti anche guardando mi hanno dato mi hanno dato i piedi del del re belli kings butto ma donna guardare tipo una tunica si non mi c'è un botto non bellissimi andiamo andiamo non vieni non vengo dove andiamo andiamo a destra dai tanto destra FAMO aspetta che ricarico un dos tre no 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 nico no no è finita è finita è finita ma non sono così forte come sembra non riesco a prenderla io devi farli venire nel tuo stesso blocco No non ce la faccio ok si è capito come si fa Sì 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 ho capito aspetta che devo recuperare un po di vita per forza ok aspetta 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 io non recupero vita dai veloce Certo le quali e basta vabbè apriamo Quanti ce ne sono ancora? Oh mio dio mio dio basta 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 chiudi Eh sono morto vabbè ho recuperato ho recuperato va bene Un po' li ho beccati un po' li ho beccati mi sono beccato te Ok un po' li ho uccisi Ok un altro ok quanti ce ne sono ancora non lo so uno è qui da me Ho preso ok 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 entriamo quanti sono? Ok sono morto va bene va bene sono morto va bene sono morto veloce 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 Da me non viene nessuno? Eh perché sono da me Niente L'ultimo 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 ucciso Oh Basta mi sotterro mi vado a sotterrare uno e due ciao No vabbè ciao Destra di nuovo ma vado Subito E vabbè sono un po' grossi però eh sono creeper giganti questi ma sono creeper giganti si sono Ascolta nico sono stanco anch'io ok ho finito le munizioni Eh tieni Grazie mille quante ne hai tu ancora? Ne ho preso uno stack E io ne ho finito Vai vai Sono lenti però non mi sembra Come entro con loro è entrato? Sì sì io entro vado Ciao Ok di fraio io tu c'ho mezzo cuore Non fanno tanto danno Non fanno danno però se c'ho mezzo cuore è lo stesso No no fanno malissimo E questo è morto Ai 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 Cioè ma puoi uscire dall'entrata Dove devo uscire scusa E c'è dall'altra parte un attimino no? C'è l'altra parte un attimino no? C'è l'altra parte un attimino no? C'è l'altra parte un attimino no? Ok basta Adesso vado indietro tu Sì guarda Sono indietro guarda Io do questi Oh no bravo ciao Torno all'inizio Torno all'inizio Dopo le munizioni Vado a prendere le munizioni Vado a prendere le munizioni Che qua dove eravamo andati Non voglio fare il fail Ve ne vado Abbiamo a sinistra? Basta a destra Basta a sinistra Sempre a sinistra andiamo Ma sempre a destra andiamo E ok dopo dove andiamo? E dopo andiamo a sinistra Ok Sono già andato io Ma dimmelo il polo E' il miner E' il miner E' lo zomi minatore Ragazzi lo zomi minatore che bello Oddio Lascia li uccido tutti io tanto tu sei scarso Sono io quello forte Guarda che non li dovrei uccidere questi Un piccone Un piccone Basta ora devi uccidere tutti quel piccone E ma dove vado? Sinistra 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 Questi mi sa che sono forti Un tipo di cavalieri No Con il piccone E' finito il piccone E' finito proprio E' proprio finito del tutto Non esiste più Ma questo è speciale o normale? No questo era speciale Questo era speciale Questo era molto speciale Finito Guarda che bello Madonna mi sono paventato Ci voleva morire questo qua? Non lo so Spariamoli Appena muore Oh